ragazzi e ragazzi e soprattutto collezionisti bentornati sul canale oggi ci andiamo ad aprire altri quattro pacchetti della collezione fifa world cup catar 2022 ovviamente adrenalin tre bustine nella versione italiana e una bustina che mi era rimasta nascosta da parte della versione nordic vediamo anche un po le differenze quindi ragazzi che dire il tempo di lasciare un like se vi va di iscrivervi qualora non siete iscritti e di attivare la campanella se vi piace questo tipo di contenuti e noi andiamo subito a spacchettare eccoci qui ragazzi lo state vedendo tre pacchetti in versione italiana un pacchetto nella versione nordic vi volevo far vedere che l'artwork non cambia all'interno troveremo comunque otto carte cambia il colore vi faccio vedere anche qui il retro eccolo qui che anche il retro non cambia quindi ragazzi non perdiamoci in chiacchiere andiamo subito a spacchettare fatemi sapere magari sotto nei commenti cosa ne pensate di questo mondiale invernale partiamo subito con il primo qr code andiamo a fare il trick a tre e vediamo chi troviamo e abbiamo il giocatore catariota e poi kim sempre con questa espressione che mi fa abbastanza ridere e poi abbiamo bucianan intanto ho visto un bordo ragazzi brillare veramente tanto quindi andiamo piano andre silva rustic eccolo qui ragazzi non ci credo non ci credo ragazzi ci siamo ed è proprio lui ragazzi la numero uno di maria top master ragazzi la numero uno della collezione veramente veramente fantastico ragazzi fantastico e poi troviamo mattias del it e contender team della costa riga veramente veramente fantastico ragazzi così al primo pacchetto aperto che dire veramente veramente ottimo e veramente fortunati ultimamente la fortuna ci sta un po ripagando su questa collezione perché non siamo stati devo dire la verità molto fortunati su questa collezione uh malinoski che ho al fantacalcio e poi beresischi e poi abbiamo il giocatore polacco bednarek e poi abbiamo il giocatore della rabbia il giocatore scozzese robertson del liverpool attenzione rookie ragazzi rookie eccolo qui di pedri ottima anche questa e poi abbiamo de jong in versione magician che penso sia uscita non lo so dieci volte ragazzi senza fare esagerazioni lo stemma della corea del sud che è veramente uno degli stemmi più belli così stilizzati veramente veramente stupendo a mio parere ci andiamo ad aprire la versione nordic vediamo se troviamo qualcosa di diverso all'interno di questo pacchetto e abbiamo il qr code sempre per voi andiamo a fare il trick vediamo se ci porta bene anche questa volta e abbiamo zyshenko dell'ucraina yang della corea andresilva un altro andresilva un altro rustic vinicius junior e poi abbiamo magician dell'arabbia fans favorite della spagna sergio busche e sotto abbiamo fans favorite assan sempre sempre una fans favorite in questo caso del catar ultimo pacchetto di giornata ma ragazzi su quattro pacchetti già ci possiamo ritenere più che soddisfatti con di maria e pedri rookie andiamo a vedere se quest'ultimo pacchetto ci regala un'ultima gioia andiamo a fare il trick sicuramente se ci fosse qualcosa di bello importante qua dentro potrebbe essere il video più fortunato di questa collezione e andiamo a trovare l'altra fans favorite del catar eccola qui infatti la numero 326 e questa è la numero 327 e sotto abbiamo castelletto nome tipico camerunense e poi abbiamo alvaro morata anche alvaro morata ci è uscita tantissime volte poi abbiamo il portiere anche del catar un giocatore della rabbia e poi sotto abbiamo top keeper eduardo mendi il portierone del celsi sotto gol machine luis suarez e chiudiamo questo spacchettamento con c'è un bordo dorato ragazzi ed è summer fans favorite della svizzera comunque non male ragazzi ora io me le vado a mettere nel raccoglitore ma ragazzi per il video di oggi può veramente finire qui perché dico che può veramente bastare abbiamo trovato sia di maria top player sia pedri rookie che dire ragazzi se il video di oggi vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like e io vi auguro una buona giornata mamma mia raga bene bene oggi oggi veramente fortunati